cari amici di visione tv benvenuti ad un nostro nuovo appuntamento il piacere di presentarvi l'ospite in collegamento con noi oggi è un gradito ritorno stiamo parlando di franco fracassi giornalista scrittore ciao franco ciao salva tutti con franco oggi torneremo a parlare dei misteri di one e proprio i misteri di one tal proposito il titolo del suo ultimo libro prego la regia di mandarlo in sovraimpressione eccolo qui i misteri di one la cia la casa bianca l'ombra di wall street chi si cela dietro al laboratorio sospettato di essere l'untore del mondo ecco prima di cominciare a fare luce su questa vicenda che è stata trattata in termini molto superficiali per usare un eufemismo da tutto il grande circuito informativo internazionale voglio dare conto a quelli che ci seguono voglio dare notizia del fatto che si è svegliata oggi repubblica come lì c'è nel paese delle meraviglie ecco anche dalla parte degli el canagnelli si sono accorti che forse lì insomma non la raccontano con tutta corretta vediamo un po oggi che dice la repubblica ecco biden chiede cautela non molliamo ora che la guerra non è vita a parte la retorica sulla lotta al virus se vedete lì sotto c'è blinken che è il nuovo segretario di stato che dice che attacca l'oms per il rapporto sulle origini del virus blinken accusa l'oms di avere di fatto pubblicato un documento scritto direttamente dai cinesi ecco voi ricordate che fino a poco tempo fa ci dicevano che erano tutti complottisti quelli che non credevano alla storia del pipistrello che si era accoppiato col pangolino e che poi era arrivato fino qua però adesso stanno diventando complottisti pure loro franco perché secondo te adesso cominciano anche questi grandi giornali a insinuare il dubbio perché la cosa è talmente clamorosa oltre al fatto che mentre prima bisognava occuparsene e quindi come sappiamo i grandi giornali di solito non si occupano le cose le cose gli cadono in mano nel senso c'è sempre qualcuno che gli fornisce il flusso informativo di cui devono poi parlare questa volta insomma intorno a quel che è accaduto alla commissione che si è mandata a vucana ea questo laboratorio sta succedendo un pandemonio a livello mondiale abbiamo sentito anche il segretario di stato americano si sta lamentando e quindi quel tipo di flusso di informazioni arriva anche ai giornali tipo repubblica quindi iniziano a parlare pure loro ma è una questione proprio tecnica nel senso che chi chi fa diciamo informazione di riflesso quindi non producendola ma semplicemente riportando quello che dicono alcuni canali informativi alla fine ne parla solo in questi casi ecco questo è il motivo però se posso aggiungere e diciamo il l'amministrazione biden ha perfettamente ragione su questa vicenda del della commissione di inchiesta cosa dice questo questo report dell'oms il report dice sostanzialmente che l'origine è un'origine zoonotica cioè l'origine è quella animale che non si sono trovato all'interno del laboratorio non si è trovato alcun tipo di prova che possa dimostrare la fuga di materiale dal laboratorio il problema è che intorno a questo a questo rapporto ci sono una serie di problemi che rendono sostanzialmente non valido rendono inutile questo rapporto insomma simile a una specie di so è una cosa fantasiosa è qualcosa che sta che di solito si fa equiparabile a una pubblicità più che una cosa seria allora quali sono i punti punto numero uno la l'oms è finanziato in buona parte dalla cina anche e quindi dipende anche da quei finanziamenti e prima di prendere una decisione diciamo contro la cina ci pensa 50 volte punto numero due il presidente l'oms sta lì perché il suo più grande sponsor è stato la cina l'ho dimostrato in tantissimi modi negli ultimi due anni quantomeno dallo scoppio della pandemia in poi punto numero tre questa commissione che la commissione dell'oms che è partita per la cina per per visitare appunto per cercare di scoprire l'origine del virus è frutto di una lunghissima trattativa con i cinesi che hanno addirittura è uscito fuori un protocollo di di circa nove pagine in cui ci sono proprio le limitazioni del del potere ispettivo di questa commissione quindi sostanzialmente non poteva indagare quasi nulla punto successivo la cina ha messo aveva diritto di veto sui il sul nome dei commissari quindi tutti i commissari che sono andati in cina erano diciamo ben visti dalla cina punto ulteriore uno dei membri perché poi ce ne sono vari però c'è sta uno in particolare che è veramente quasi scandalosa la sua presenza perché si tratta di uno scienziato che è uno dei tra i maggiori esperti mondiali di coronavirus si chiama peter dashak però è anche la persona era proprio lui colui che dirigeva il team di di scienziati americani che lavoravano a vukan quindi e che finanziava quei progetti quindi è come chiedere a un non so come dire è come chiedere a un assassino di indagare su se stesso è evidente che si professerà sempre innocenze punto ulteriore la diciamo la commissione ha avuto accesso solamente questo non ha messo gli stessi commissari solamente ad alcuni documenti e alcuni siti e nei siti comunque nei siti in cui riuscite andare è potuto restare lì per poter indagare pochissimo tempo non sufficiente anche per scoprire in quei siti che magari non forse erano anche siti sbagliati comunque comunque un tempo non sufficiente per scoprire che cosa fosse realmente accaduto infine tutto il materiale che questa commissione non ha potuto raccogliere gli è stato fornito alla cina e questo materiale è essenzialmente il materiale dei dati allora come non sappiamo la scienza si basa sui dati principalmente bene i dati a cui ha avuto accesso la commissione sono stati dati rielaborati in precedenza dagli scienziati cinesi e quindi anche qui appunto immaginiamo un assassino in cui il perito balistico analizza appunto da dove è arrivato il colpo di pistola sulla base dei dati forniti all'assassino che magari l'assassino si trovava a sinistra in alto e in base alle sue ai dati che fornisce poi al perito balistico risulta che la persona che ha sparato ha sparato da dietro e dal basso e quindi non può essere più l'assassino quindi ci sono tutta una serie di elementi che chiaramente rendono totalmente inutile proprio inutile questa commissione d'inchiesta sì ecco cerchiamo di capire allora che cosa è successo per davvero visto che questa commissione d'inchiesta tu dici ci hanno mandato gente che era sospettata di avere combinato il disastro ecco un po' quando all'indomani nelle stragi italiane mandarono alcuni investigatori che poi si scoprì che magari lavoravano per qualcun altro ecco e poi hanno scoperto dopo vent'anni che depistavano le indagini ecco magari questo schema non funziona solo in Italia funziona anche su un piano sovranazionale quindi hanno mandato gente che proprio tutto l'interesse aveva tranne che dire la verità o aiutare la gente a scoprire la verità cerchiamo di capirla noi questa verità con gli strumenti che abbiamo tu perché hai sentito il bisogno di scrivere questo nuovo lavoro Franco quali elementi nuovi hai individuato quali sono le piste che hai seguito? allora ho sentito il bisogno di scrivere un libro su questo tema perché pensavo e penso tuttora che non se ne parli abbastanza non se ne parli nel modo giusto e visto che è un tema centrale perché insomma per vari motivi innanzitutto perché è diciamo quel che è accaduto se ci sono ufficialmente oltre due milioni di morti e chiunque se c'è una mano umana anche un errore si chiama è una sorta di crimine contro l'umanità quindi bisogna scoprire chi ha perpetrato questo crimine e in più capire che cosa è successo può aiutare sia a prevenire eventuali future pandemie che potrebbero arrivare tra noi sia a impedire che alcune pratiche magari sono rivelate sbagliate e dannose vengano portate avanti quindi è fondamentale è fondamentale per tutti quanti noi capire che cosa è accaduto intanto cerchiamo di capire una prima cosa cioè andiamo per gradi ecco le due ipotesi principali sono la questione naturale cioè come dice l'oms che c'è il pipistrello il pangolino insomma che va in giro lì per one oppure la questione artificiale cioè il fatto che questo questo male sia il risultato della manipolazione umana ecco tu puoi dire che in base agli elementi che hai raccolto è più semplice pensare come vera la seconda ipotesi piuttosto che la prima sì diala premetto non esistono prove né in un senso né nell'altro cioè non esistono prove non esiste la pistola fumante quindi il dubbio permane però diciamo che se uno dovesse mettere su una bilancia gli indizi in favore della diffusione animale e gli indizi a favore della diffusione in laborato dal laboratorio peserebbe enormemente di più quella del laboratorio allora perché perché allora innanzitutto i pipistrelli visto che si parla di diffusione animale i pipistrelli a Wuhan sono molto distanti almeno quel tipo di pipistrelli lì che possono da cui provenirebbe il virus vivono a quasi 2000 km da Wuhan quindi casomai la pandemia il virus sarebbe dovuto iniziare a svilupparsi altrove e poi solamente successivamente arrivare a Wuhan invece è partito proprio da Wuhan punto 2 il il tipo di questo l'hanno spiegato gli scienziati insomma anche alcuni che erano facevano parte della commissione d'inchiesta dell'OMS questa è una cosa assurda cioè che il il virus per arrivare fino all'uomo per essere sia per contagiare l'uomo che per diciamo favorire il contagio da uomo a uomo ha subito tantissime trasformazioni allora queste trasformazioni di solito avvengono in un arco di tempo molto lungo invece a quanto pare questa cosa è avvenuta in un arco di tempo rapidissimo allora sempre gli scienziati spiegano che quando accade in un arco di tempo così rapido è perché qualcuno gli ha dato una mano sostanzialmente ha accelerato questo processo e questo processo di solito viene accelerato da altri scienziati punto numero 3 ammesso che siano stati gli animali all'interno di quei laboratori di Wuhan un tipo di esperimenti che facevano erano proprio sugli animali cioè il pipistrello il pangolino e gli altri vari animali teoricamente responsabili della diffusione di questa pandemia erano non solo se lo siano ancora ma sicuramente erano prima del dell'inizio della dell'epidemia erano presenti all'interno di quel laboratorio e di quei laboratori perché in realtà a Wuhan ci sono molti di laboratori che studiano queste cose e quindi è possibile benissimo che questo virus sia stato effettivamente trasportato da animale animale ma non in natura sempre dentro il laboratorio in più c'è un elemento invece non so come dire che pesa molto più degli altri ovvero in quel laboratorio da da quando esiste quel laboratorio si praticano degli esperimenti che si chiamano guadagni di funzione che sono degli esperimenti pericolosissimi che tanto però sono vietati in quasi tutto il mondo tranne che in Cina e da 2017 anche negli Stati Uniti allora sono esperimenti pericolosissimi perché è come saprei se avete presente i film di quelli fantascienza Jurassic Park o ci sono tantissimi film per esempio che si dove dove si parla di pandemie tutti questi film e tutti questi romanzi anche si basano sempre su un assunto di qualche scienziato che prova a fare dio si inventa qualche cosa di assurdo e così via e ogni volta tutte le volte non c'è una volta che finisce in maniera differente questi suoi esperimenti erditi si trasformano in qualcosa di devastante non solo per lui stesso ma anche per quantomeno per un gruppo di persone se non per l'intera umanità ecco questi sono gli esperimenti dei guadagni di funzione che hanno due scopi non hanno come dicono la maggior parte degli scienziati più titolati al mondo non hanno uno scopo reale di beneficio per la popolazione bisogna chiarire questa cosa qui hanno però due scopi ben precisi uno la produzione di vaccini e l'altro è la produzione di armi biologiche tant'è vero che questi esperimenti nella maggior parte dei casi si producono si conducono all'interno di strutture militari e la produzione di Wuhan era una struttura militare e gli scienziati che lavorano lì per buona parte erano scienziati militari specialmente quelli statunitensi perché lì a Wuhan lavoravano tantissimi scienziati statunitensi ed era finanziato anche dal governo degli stati uniti quel tipo di ricerca ora fermiamoci un attimo qua franco perché questa è una cosa che insomma che non si può lasciare non può passare così diciamo che tu dici guardate che il laboratorio di Wuhan non era sotto il controllo esclusivo e totalizzante del partito comunista cinese anzi in quel laboratorio dove venivano fatti esperimenti militari ad altissimo tasso di pericolosità lavoravano in prevalenza uomini medici statunitensi dell'apparato non medici che sono in vacanza là e vogliono lavorare con i cinesi cioè ma uomini che rispondevano all'apparato militare statunitense allora la domanda è Cina e stati uniti sono degli alleati strategici dal punto di vista militare per per fare diciamo questo tipo di operazioni e poi ci raccontano su un piano diciamo profano che sono nemici per la pelle non lo so qualche sospetto viene anche perché oltre anche i finanziamenti cioè il questi era un progetto finanziato da USAID alla USAID è una sorta di agenzia sarebbe come la nostra cooperazione internazionale ma in realtà negli Stati Uniti è un'agenzia diretta e maniazione non solo il dipartimento di Stato ma della CIA di solito USAID vuol dire CIA ecco questo era il soggetto che finanziava questi esperimenti allora io sono rimasto in vita mia in tanti anni che faccio giornalista oramai non mi dovrei sorprendere quasi più di nulla perché ho scoperto per esempio sempre approfitto di Cina perché c'è un paese che teoricamente è nemico giurato della Cina che beh Taiwan ogni tanto ogni qualche anno si fanno si affrontano le flotte si fanno blocchi navali cose pazzesche eccetera eccetera e la prima volta che andai in Cina trovai questi gruppi turisti giganteschi e giravano quella Cina e ho chiesto ma chi sono e me sono abitanti di Taiwan perché pare che i turisti più numerosi in Cina sono quelli di Taiwan ma non solo la maggior parte delle imprese di Taiwan sono imprese joint venture Cina e Taiwan quindi saprei come dire che la Germania Est e la Germania Ovest facevano le cose tutte insieme allora guardando queste cose e sapendo tante altre cose che sono successe in giro per il mondo nella storia c'è da sorprendersi un po' meno nel senso che poi alcuni giochi della geopolitica mondiale vanno al di là degli schemi che noi siamo abituati a conoscere il problema che non francamente non so dare una spiegazione del perché Cina e Stati Uniti siano in qualche modo alleati nel sviluppo di armi biologiche che vorrei chiarire una cosa sono vietate dal 1929 cioè la convenzione di Ginevra nel 1929 ha vietato la produzione e il mantenimento di armi biologiche da parte degli stati eppure nonostante questo ci sono almeno 15 paesi riconosciuti ufficialmente come detentori di armi biologiche e come abbiamo visto insomma anche da quello che è successo a Wuhan Stati Uniti e Cina ne sviluppano di queste armi e quindi diciamo ci sono una serie di cose che sono rappresentano l'ossimoro della nostra di quello che noi pensiamo del nostro mondo ecco noi abbiamo un'idea del mondo così come deve andare un'idea che ci viene anche illustrata dai media e dai commentatori dai politici e così via mentre invece il mondo reale è parecchio diverso da quello che noi pensiamo sia ecco allora se questo già è un punto fermo cioè lì c'erano americani e cinesi chi comandava però lì chi era il responsabile il gestore di questo laboratorio un funzionario del partito comunista cinese o uno scienziato nel libro paga delle grandi multinazionali americane allora il capo di laboratorio era cinese però gli esperimenti di guadagno di funzione che venivano svolti lì nel laboratorio venivano erano diciamo finanziati dagli americani sia investimenti pubblici che privati statunitensi e quindi erano gestiti dagli americani ma dal governo americano o da alcune società americane quelli pubblici erano dal governo americano come abbiamo visto cioè sotto quale governo sono stati stabiliti questi finanziamenti il governo di chi governo trump che è una cosa assurda pure questa perché trump è stato il nemico giurato della cina per quattro anni quindi fermiamoci un attimo franco perché ora la cosa si ingarbuglia ancora di più perché noi eravamo abituati a sapere che semmai poteva esistere un deep state progressista globalista americano guidato da clinton obama biden e tutti gli altri che utilizzava la cina come braccio armato per imporre la globalizzazione affamante al resto del mondo quindi noi ad un doppio gioco di questo tipo eravamo pronti ma l'amministrazione trump tu ci stai dicendo che ha finanziato il laboratorio di one dove mi pare che uno degli scienziati americani che aveva maggior peso nel braccio destro di fauci che tu prima hai citato cioè questo mi stai dicendo ma tu hai ai documenti per provare questo sì 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 sono tutte cose ufficiali non sono cose segrete insomma sono cose questa è la cosa assurda sono cose ufficiali però i giornali non non le vanno a cercare quindi non apparentemente sembrano delle cose chissà ma tu dove l'hai preso sto documento che testimonia il finanziamento dell'amministrazione trump al laboratorio l'ha pubblicato l'amministrazione trump cioè il dipartimento di stato ho detto USAID che è il braccio sarebbe come una sorta di braccio armato economico del dipartimento di stato insomma il dipartimento di stato degli stati uniti ha fine a dal dalla fine dal dall'autunno 2017 quindi la piena amministrazione trump dal dall'autunno 2017 in poi ha finanziato con decine di milioni di dollari questo il laboratorio di wuhan mandando i propri scienziati ma qualcuno ha spiegato anche il perché lo ha fatto e lo hanno fatto sì hanno allora fauci così l'ha spiegato dice il più grande terrorista del mondo bioterrorista del mondo è la natura quindi noi dobbiamo combattere la natura e per combattere la natura bisogna adottare strumenti straordinari anche se rischiosi perché non c'è altra altra strada questo diciamo la spiegazione ufficiale di fauci dico ma nessuno gli ha chiesto ma perché non l'hai fatto nel maryland o nel kansas e sei andato in cina dai tuoi nemici cinesi che sono comunisti mentre tu sei espressione di un liberismo diciamo dei diritti civili la democrazia che fu c'è nessuno gli ha chiesto non te lo potevi fare diciamo a washington invece che a wuhan no non gliel'hanno chiesto anche perché peraltro quando c'è stata questa direttiva nel 2017 nei guardi del laboratorio wuhan l'amministrazione insomma ha fatto anche un'altra cosa cioè ha sdoganato perché erano vietati obama ha vietato gli esperimenti dei guadagni di funzione sul territorio statunitense perché diceva sono troppo pericolosi allora sempre nell'autunno 2017 il governo l'amministrazione statunitense sdogana di nuovo gli esperimenti di guadagni di funzione cioè negli strumenti si possono fare dal dal 2017 in poi questi tipo di esperimenti però si possono fare cioè questa è la cosa curiosa solo sui sui coronavirus c'è gli un l'unico tipo di virus su cui si possono il virus batteri su cui si possono fare questi esperimenti guadagni di funzione è solamente il coronavirus tant'è che il laboratorio il principale laboratorio al mondo di studio dei virus che è un laboratorio militare non a caso anche in questo caso che si chiama ford etric dal dall'inizio 2018 ha ripreso gli esperimenti sul sui coronavirus e c'è da dire una cosa sui coronavirus a proposito di laboratorio militare e quant'altro allora c'è un documento del governo australiano che risale al 2010 quindi risale a oramai a 11 anni fa insomma immagino che se era così allora adesso la cosa sarà ancora si è ancora più spinta alla questo questo documento è stato redatto dagli scienziati del governo australiano anche le scienziati militari che il governo australiano che cosa sostiene sostiene che in questo momento nel 2010 le armi biologiche sono divise per fasce per fasce per fasce di di efficacia la fascia sono le armi biologiche più efficaci di tutte bene l'arma di fascia l'arma biologica più efficace di tutte è la sars è consigliata più efficace dell'ebola di qualsiasi altra arma dal punto di vista biologico ecco quindi diciamo il fatto che tante cose tornano ecco esattamente beh insomma adesso stiamo cominciando ad avere un quadro un po più preciso ma la la discussione la polemica trump fauci era recitata secondo te o alla fine trump era anche ostaggio e vittima di questo stato profondo no non era recitata insomma fauci è entrato in polemica con tutti perché fauci come se fosse un potere a sé tutti i presidenti hanno dovuto digerirlo in qualche modo io affermo sempre la complessità delle cose cioè a me non piace il fatto che c'è il deep state l'anti deep state quello così e quello quella eccetera non funzionano così le cose sono sempre molto più complesse e il fatto che l'amministrazione trump abbia parlato delle cose non vuol dire che trump fosse non lo so magari però non è automatica la cosa che diciamo fosse stata diretta emanazione di trump o trump abbia subito queste cose non ne ho la più pallida idea so solo che tra fauci e trump c'era una profonda divisione su questo punto io non so se la la divisione era dovuta anche al fatto che la diciamo le accuse che trump muoveva al laboratorio di wuhan erano accusa che muoveva anche agli stati uniti e a fauci e quindi non so se ha aggiunto fauci abbia si sia messo per traverso con trump dicendo ma che fai sei matto che ci accusi e trump invece continua a farlo o trump che non si rendeva conto di quello che stava facendo queste cose qui bisognerbbe chiedere a loro secondo me non risponderanno mai però sicuramente c'era una profonda divisione tra i due senti franco tu hai detto pure questo tipo di tecnica non serve solo per costruire queste chimere questi virus diciamo modificati che poi per fare capire magari all'occhio profano è come quando da ragazzi magari truccavamo la vespa no gli metti una cosa diversa e diventa un virus rinforzato cioè questo il senso che fanno si chiamano virus chimera perché sono e come la chimera chimera era cioè il corpo di leone le zampe di capra e la coda di serpente cioè sono tre animali messi insieme ai virus chimera sono questi cioè prendono che so il la sars e ci aggiungono un pezzo di ebola quello è un virus chimera allora creano delle mostruosità delle vere e proprie mostruosità e il la cosa assurda che non le nascondono queste cose cioè lo scienziato diciamo quello più esperto di tutti che non è il capo però era quello che faceva gli esperimenti lì sul campo a Wuhan che un certo Bari che è uno scienziato americano ha detto che faceva questo genere di esperimenti ha detto noi siamo diventati così bravi a fare questi esperimenti che nessuno ci potrà mai beccare cioè la nostra mano non si vede sembrano virus naturali non creati dall'uomo questo l'ha detto colui che fa questi esperimenti è rassicurante e allora possono mandare tutte le indagini che vogliono se questa è una specie di mago silvano che fa sparire tutto senti franco va beh allora abbiamo capito che questo laboratorio di Wuhan è altamente sospettato di avere fatto di avere combinato il danno tu propendi per la il danno accidentale o invece per il danno voluto? Allora non lo so danno voluto visto che non esistono prove non saprei cioè uno può avere anche dei sospetti però non diciamo il danno accidentale è molto probabile perché nel corso dei 60 anni cioè da quando esistono questo genere di laboratori ci sono stati solo negli stati uniti solo negli stati uniti questo è un dato ufficiale mille e cento incidenti in questi laboratori allora voi immaginate alcuni di questi incidenti per esempio uno di questi incidenti ha provocato ci fu nel 1977 una influenza che colpì tutto quanto il mondo una pandemia potremmo dire un'influenza A si chiamava influenza A e furono accusate russi e cina di questa della diffusione di questo dell'inizio insomma di questa pandemia e poi dopo molti anni indagini approfondite degli scienziati invece scoprirono la vera origine della pandemia era un laboratorio militare degli stati uniti allora che aveva avuto una fuga di materiale come un incidente c'era stato un incidente lì e poi per motivi del dracon rocamboleschi questa cosa era finita in cina e poi in russia e da lì era partita in tutto il mondo allora gli incidenti ci sono sono continui per questo è pericoloso fare questi esperimenti cioè come se prendete l'esempio delle centrali nucleari no centrali nucleari abbiamo visto la cernobyl sono potrebbero possono essere pericolosissime allora voi immaginate se il direttore di una centrale nucleare ogni una volta a settimana come esperimento portasse la centrale nucleare al suo massimo cioè al punto limite per vedere fino a dove si la può portare prima di farla esplodere no è un matto cioè questo una due tre quattro cinque volte alla fine capiterà una volta in cui succede qualcosa di storto la centrale esplode questo è quello che fanno gli esperimenti di guadagni di funzione cioè giocano col fuoco giocano il fuoco in ambienti che sono riconosciuti da tutti come ambienti non sicuri franco tu in una nostra precedente intervista hai detto guardate che dietro quel laboratorio di one a parte che noi adesso abbiamo approfondito un po la questione del dei finanziamenti pubblici che insomma tu ci dici che gli era fatti avere tram però non è detto che lui sapesse comunque in ogni caso c'è un c'è una continuità evidentemente di percorso che va al di là anche della della figura dei singoli presidenti insomma c'è un potere che evidentemente tiene il pilota automatico per usare una metafora cara a a draghi tu dici hanno ricevuto però anche tanti finanziamenti privati in una precedente intervista noi eravamo arrivati fino a black rock e ad altre grandi società che detengono quote societari importanti delle case farmaceutiche che adesso ci stanno imponendo i vaccini puoi aiutarci a chiudere questo cerchio tipico dei loro autisti perché noi prima ci autodenunciamo però insomma come ragioniamo ci piace provare al complotto c'è no no ma io me ne vanto franco io me ne vanto io non sono io non sono un complottista cioè io sono uno che racconta le cose punto ma per questo sei complottista perché se dicessi che invece tutto il contrario di tutto direbbero che sei uno serio prego noi proprio abborro questa parola non sono complottista e non esistono io proprio dico che non esistono i complottisti ci sono quelli che fanno buon giornalismo e quelli che fanno cattivo giornalismo allora è un dato di fatto che le principali case farmaceutiche siano controllate da queste da tre colossi finanziari che si chiamano black rock vanguard e 6 street che sono a loro volta si controllano la vicenda come se fosse un'unica gigantesca entità ecco la cosa però incredibile che questi tre diciamo queste case farmaceutiche specialmente quelle che lavorano in vaccini sono anche dietro una una fondazione che si chiama eco health alliance una fondazione americana e questa fondazione è era la diciamo la quota parte di finanziamenti privati agli esperimenti che si facevano di guadagni di funzione si facevano a Wuhan perché questa fondazione eco health alliance fa proprio gli esperimenti sui guadagni di funzione allora eco health alliance da chi chi ha dietro di sé ha dietro di sé questi colossi della finanza ha dietro di sé la cia perché la cia è parte di diciamo di controllo di questa eco health alliance e poi delle case farmaceutiche allora cosa fanno queste case farmaceutiche tutte quelle che partecipano eco health alliance producono vaccini perché come ho detto prima quelli gli esperimenti guadagni di funzione servono per armi e vaccini in particolare la più importante di queste è la johnson e johnson allora da quello che risulta documenti ufficiali è nel 2018 e nel 2019 chi lavorava a questi esperimenti a Wuhan aveva già sviluppo aveva già diciamo trovato tutti gli elementi essenziali di quello che è poi il sars cov 2 cioè di quello che è la il covid 19 la il virus della pandemia quindi diciamo che come se loro avessero già scoperto il covid già ci stessero lavorando sui vaccini e probabilmente la spiegazione più plausibile al fatto che dopo sette otto mesi alcune grandi case farmaceutiche avevano già pronto il vaccino cosa che diciamo abbastanza curiosa perché solito ci vogliono anni io l'unica cosa mi si sta scaricando il computer devo un attimo attaccare ecco non so se se vai fai io intanto magari provo a tenere distratti tutti quelli che ci guardano ecco ti do un minuto vabbè diamo il tempo a franco di sistemare il computer adesso completiamo questo nostro ragionamento ora l'impressione che si ha nel conoscere tutti questi fatti fra che qualcuno avrebbe potuto pure maturare l'intenzione di costruire contemporaneamente sia il problema che la soluzione cioè se lì c'erano le grandi case farmaceutiche a one che sono le stesse che oggi stanno imponendo il vaccino con evidentemente degli argomenti molto incisivi visto che mario draghi nei prossimi giorni imporrà i sanitari sembra che domani stesso con decreto dovrebbe imporre ai sanitari la vaccinazione pena la perdita dello stipendio e ha immaginato anche uno scudo penale diciamo per questi operatori sanitari che dovessero fare delle vaccinazioni che poi possono comportare in teoria diciamo delle delle reazioni avverse anche gravi ecco tutto questo potrebbe stare insieme cioè se lì c'erano quelli che adesso ci stanno vendendo i vaccini se lì c'erano i militari americani se non è uscito dal dal pangolino che si accoppia col pipistrello non è che ci vuole il complottista che non piace come parola o ci vuole sherlock holmes cioè se uno va al mare non si mette la crema ci sono 50 gradi e ha la pelle bianca e se è scottato difficile dare la colpa al pesce a spada ci sarà un nesso di causa effetto no fra tutte queste cose sì diciamo che tu dici la volontà di voler spingere al massimo il motore per farlo esplodere potrebbe esserci potrebbe esserci cioè chi ci guadagna da sta pandemia fra le case le case farmaceutiche sicuramente dal punto vista sia dal punto vista economico è stato calcolato che il guadagno quest'anno per quanto riguarda i vaccini sarà di 150 miliardi di dollari per le case farmaceutiche sommato a altri 150 miliardi di dollari circa anche per l'anno prossimo senza calcolare l'aumento dei titoli in borsa che è stato calcolato che porterà un guadagno complessivo alle case farmaceutiche di big pharma di circa altri 500 miliardi di dollari quindi cifre colossali stiamo parlando però anche per le case farmaceutiche è anche un potere diciamo un guadagno di potere cioè loro immaginate una casa farmaceutica che ha i vaccini in questo momento ha un potere di scambio nei confronti dei paesi o di organizzazioni sovranazionali come per esempio l'Unione Europea gigantesco quindi questo è un punto un altro punto ci stanno guadagnando tutte quante le imprese che si occupano di digitale sia quelle che lavorano su internet che non so youtube google zoom amazon eccetera eccetera c'è facebook e così via tutte quante queste tutte quante le imprese e e-commerce stanno tutti quanti guadagnando dalla pandemia ci stanno guadagnando le imprese che producono apparecchi digitali insomma ci sta guadagnando la apple ci sta guadagnando non saprei chi produce televisioni è un altro che sta facendo buoni affari esattamente tutti quanti questi stanno facendo tantissimi affari vabbè stiamo entrando nel mondo verde digitale le multinazionali del della virtualità diciamo mentre pagano quelli che anche le multinazionali del del cibo insomma e una delle cose che ha aumentato in questi mesi e il la produzione diciamo il guadagno c'è stato un incremento del 20 per cento delle spese per per alimentarsi quindi ci stanno ci stanno guadagnando ci sono tutta una serie di soggetti che ci stanno guadagnando e guadagneranno in futuro e allora costoro hanno diciamo spinto per per far sì che ci fosse la pandemia questo non lo so cioè a volte le cose accadono a volte bisogna essere bisogna sapere che stanno per accadere e tenersi pronti e questo è già un grosso un grosso discrimine e secondo me una sorta di crimine è come se uno sapesse che sta per accadere un terremoto in una data città e invece di avvertire tutti dicendo scappate perché c'è ci sarà il terremoto oppure prendiamo delle misure per rinforzare le case per non fare crollare uno sta zitto si organizza appena c'è il terremoto arriva con i soccorsi con le cose incomincia a fare tutto quello che deve fare ecco questo è più o meno quello che è accaduto invece cioè loro lo sapevano erano si sono attrezzati e e hanno atteso il momento giusto credo che sia andata così ovviamente ripeto non posso dire non posso negare il fatto che ci possa essere state invece una volontà precisa di farlo però questa è una resta totalmente nel campo dell'ipotesi nel senso non esiste una sola prova in questo senso ci può essere diciamo un è qualcosa che non si può escludere ecco questo sì ecco forse un giurista chiamerebbe tutto questo dolo eventuale cioè se tu lanci un vaso dal balcone non è detto prenderai per forza in testa qualcuno però chi lo lancia diciamo di sicuro accetta il rischio di poter colpire qualcuno in testa ecco mettiamola così ma non è meno spreggevole di chi prende la mira senti franco andiamo verso le conclusioni di questa intervista tu prima hai citato una in particolare di queste grandi multinazionali del farmaco la johnson e johnson e cosa ha di speciale di particolare rispetto alle altre tra l'altro arriverà presto anche in italia perché draghi ci ha detto che dov'è che arriva da noi quindi siamo tutti salvi arriva johnson e johnson ci faranno una punturina sola questo non ha bisogno neanche di richiamo per tornare al ragionamento speculativo di prima se è vero quello che ci siamo detti cioè che nel laboratorio di one lavoravano tutti i scienziati al libro paga delle grandi multinazionali nel farmaco ed è uscito da lì si spiega così pure la velocità del vaccino perché uno che fa il danno magari trova prima la cura comunque questo rimane nel campo delle speculazioni quello che ho detto io non tanto del danno ma del fatto che lo riconoscevano quindi non hanno dovuto partire da zero sapevano cosa loro già stavano studiando questo virus magari non tutte le sue sfaccettature ma stavano già e stanno già lavorando a un vaccino per diciamo questo tipo di virus mettiamola così e così si spiega anche per la velocità di alcune messe in commercio di questi antidoti chiudiamo su johnson e johnson cosa ha di particolare rispetto alle altre case farmaceutiche di particolare allora oltre al fatto che a è uno dei principali sponsor di eco health alliance e di questi guadagni di funzione numero 1 b lavorava a wuhan c è un'impresa che è totalmente controllata dalla finanza cioè non esiste un so come dire un signor johnson johnson oppure un gruppo di normali privati cittadini che ha investito in questa impresa è un'impresa totalmente controllata da wall street ecco e che aggiungo io l'altro forse il più grande beneficiario di tutta quanta questa pandemia è proprio la questo genere di finanza che ha solo da guadagnare oltre che fatto ci sta già guadagnando tantissimo bene franco insomma grazie per questa testimonianza facciamo rivedere il libro i misteri di dire come si fa a prendere solo che dici franco prego posso dire a chi ci ascolta chi ci guarda come si fa a prendere il libro perché certo se no che l'abbiamo fatta a fare se non manco se gli diamo la possibilità di capire poi di non approfondire sarebbe un'opera di sadismo puro no di giornalismo prego allora in questo libro non lo troverete in iberia e quindi l'unico modo non ce n'è altro per andare a one immagino al laboratorio no mi sa che non mi ci fanno andare l'unico modo per per poterlo acquistare e farlo attraverso di me e quindi dovete scrivermi un'email non c'è altro modo la mia email è franco fracassi 11 al numero chioccio al gmail.com franco fracassi 1 chioccio al gmail.com voi mi scrivete un'email e io vi spiego come si fa ad acquistare ecco noi la metteremo pure in descrizione l'email così non possono sbagliare grazie franco per essere stato con noi grazie a te grazie a tutti quanti bene cari amici di visione tv si conclude qui un nostro nuovo approfondimento cercheremo di seguire le le piste che non vengono battute non possono essere battute dal sistema informativo maestri ma facciamo sempre con studiosi giornalisti professionisti che non lasciano mai spazio diciamo ad ipotesi fantasiose ma parlano soltanto carte alla mano documenti alla mano e semmai è il mainstream che continua a immagina dire tutto il contrario di tutto un giorno dice che le mascherine non servono un giorno sì a natale dicono che aprono a pasqua a pasqua dicono che aprono in estate mentono in continuazione però pretendono di essere prestigiosi proprio nella misura in cui continuano a mentire ecco anche questa è una forma di prestigio evidentemente vi ricordiamo che noi di visione tv possiamo andare avanti soltanto grazie al vostro sostegno purtroppo o per fortuna ecco dipende dai punti di vista non ci finanzia né wall street né black rock non abbiamo mondi strani dietro che ci aiutano a stare insieme a voi la nostra forza è direttamente proporzionale alla vostra generosità potete aiutarci tramite bonifico tramite paypal oppure abbonatevi sul nostro sito www.visionetv.it a breve cambieremo anche queste ultime cose il passaggio da vox italia tv a visione tv è quasi ultimato vi chiedo un altro po di pazienza a breve vedrete cambiamenti anche strutturali cambierà lo studio cambieranno tante cose insomma non abbiamo nessuna intenzione di fermarci continueremo a lavorare insieme a voi e per voi grazie alla prossima attenzione di fermarci continueremo a lavorare insieme a voi